Sì, Eugenio, scusa, ma alla fine quanti siamo? Ho appena chiamato pepire Giovanni e non vengono. Ah, e dodici. E non vengono neanche qui nel concetto. Ah, e dieci. Non ce la faremo, Eugenio. E nove, e sette, e tre, e due. Ma quando ne siamo abbastati, io non c'ho quanto fa. E' da, no, 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 no. Non vengono le empatizzazioni. Sì, così. Si fa rire. E' un piccio, è così, no? Vabbè, dai, non ce la faccio. E dai, amo ancora più, non lo vediamo qua. Ah, 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 ah. Fammi ridere. Eh, ah, 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 ah. Dai, dai, non c'è cosa fare. Vai, set, set. Ciac sette, scena uno, azione. Dai, dai, non c'è cosa fare. Dai, dai, non c'è cosa fare.